Oh ma bella rega, vi siete mai chiesti cosa faccio quando non faccio musicata tenarina e farcita con chetamina, metadono, chetamina, eroline, barba, a ferrara anche lo sbirro la inala e la cala, attenzione, la stagnola dentro e la aiuola. Ok, 10 minuti, partite da 12 minuti, durata, quindi roba corta, fate tanti ben match, cosa si vince a fare le partite? Vi danno dei cash, con i cash prendete le armi più potenti, le armi più potenti fanno una differenza colossale, praticamente ce n'è una, la prima che arriverete ad avere che è, dove sono tutti? Non c'è nessuno, sono quelle che, praticamente il primo che avete è l'M60 e il fatto è che quell'arma lì vi fa veramente fare un botto di kill ed è una bomba, ed è una bomba, più avanti poi ci avete il cosiddetto prestigio, cosa vuol dire? Quello nel gioco qua, quando fate il prestigio, funziona come un tycoon, praticamente vi azzerano tutto, power ups, soldi, qualunque cosa, e questo qua è uno che tira la bomba nucleare, e praticamente cosa succede? Che ripartite da capo, ma sbloccate armi molto, molto più potenti, le armi potenti, sono quelle che praticamente, come ho detto, vi fanno estremamente tutti male, nei power up avete il missile nucleare, il lancia granate, la torretta, il minigun, cioè ci sono tanti power up, dovete scegliere voi quello che vi piace di più, l'unica cosa è che sono costosi a manetta, cioè costano, quindi dovete veramente giocare e darci dentro, ci avete la ricompensa giornaliera, perché sparo ai miei, e praticamente la ricompensa giornaliera è quella che vi fa fare dei cash, perché il settimo giorno che prendete la ricompensa giornaliera, vi danno un milione di cash, quindi con 4 milioni di cash prendete l'M60, e così ragazzi, questo è tutto, radarino tattico, che mi dice dove sono, guarda il camper, questa l'arma che ho io, l'ho comprata, no, il fatto che avete un'arma comprata in questo gioco non vuol dire che siate delle bestie, le armi che sono più forti sono quelle che guadagnate con il prestigio, quindi l'arma attualmente a prestigio 5 avete un'arma stra pesante che costa un sacco di soldi, però dovete arrivare a prestigio 5, cioè non potete comprarla quell'arma, le armi che comprate si sono forti fino a un certo punto, sono più forti delle cosiddette armi basiche, ma non vi danno un vantaggio troppo pesante, cioè il gioco rimane sempre bilanciato, questa è una figata, per ora, speriamo che chi lo ha fatto lo mantenga così, e niente rega, vi sto facendo vedere quanto faccio cagare gli spara tutto, guarda questo che mi sta strinando mentre ricarico, e questo è il gioco che vi volevo far vedere perché è una bomba, niente, Roblox mi piace da dio, adesso voglio farvi vedere degli altri giochi più avanti su Roblox perché meritano e sono gratis, cioè il bello dei giochi qua è che sono veramente, cioè, roba da una partita, giochi un'ora, poi vai via, no? Non saranno mai a livello di determinati titoli, ma vi potete divertire veramente tanto, vi potete divertire veramente tanto, e ve lo consiglio, cioè, avete 20 minuti, non sapete che cazzo fare, volete scaccolarvi e cose, giocata sta roba, strinati i cinni, guarda qua, ci sono dei momenti salienti che c'ho a volte con, con il mio amico che giochiamo, guarda che strinata mentre mettevo lo scudo, sto qua con il cappellino, adesso ve lo faccio io il cappellino, no cazzo sto schiacciando, e ho fatto tutto tranne i tasti che devo fare, allora lo scudo è tattico, però ricordatevi, le granate vi dice quando stanno arrivando, e voi dovete essere lesti a spostarvi, se no vi fanno il mazzo, guarda, bravi, state lì a camperare, il radar tiene botta per un po', quindi ce l'avete, non so, penso sia due minuti, ce l'avete, valido, valido, è il power up che terrei sempre, perché veramente trovate soprattutto i camper, i camper li beccate subito, è veramente la cosa più bella da strinare, questo gioco non ha molto senso cecchinare, meno alcune mappe c'è la gente che ci riesce, trovate subito i merdoni, i merdoni chi sono? Quelli con i trucchi, perché su Roblox ci parecchia gente che usa i trucchi, perché hanno tipo roba da 100 kill 0 morti, robe varie, guardate sempre quante volte schiattano, perché vi fa capire se hanno i trucchi o no, e si possono riportare dentro il gioco nella chat, e addirittura a Roblox stesso, e quindi dopo poco ultimamente stanno diventando bravi a bannarli, se ne trovano molti di meno, dopo che sia stato l'ultimo update dell'ultimo anti-cheat su Roblox, questa pistolina la devo cambiare che fa schifo al cazzo, guarda lì, col pompa ma stai levato, lancia granny rega, lancia granny, lancia granny, vai 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 vai, si saluta ma assorta, a ca boia, no, ca diesel, faccio ancora il radar, vai 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 vai, si si stai lassù a fare, no no no, non guardare l'arma, a ca boia, quello se la ricorda fino a Natale dell'anno prossimo, e a via c'è quello con lo scudo, mettiamo scudo, vieni fuori dai, dai vieni fuori, bravo, no mi è scappato, vado a prendere quello lì, bravo, cappellino, allora c'è un po' da abituarci, sì, perché è parecchio veloce come gioco, e a volte ancora di più, quando ci sono delle partite belle, ci sono delle partite a volte che sono veramente spinte, dove stavo sparando, non so, e si fa fatica a tenere testa a gente che c'è dentro, a volte c'è gente molto forte, dovete sempre guardare il prestigio, che c'è prestigi alti perché è stato dentro a farsi il culo, li puoi vincere con lo spin, daily spin, che non ve l'ho fatto vedere, che è questo qui, che vi dà dei premi ogni giorno, ma è molto difficile, cioè è proprio, è fatto perché devi fare il culo sul gioco, e ci sono armi basiche, cioè basiche, che si possono comprare con non troppi soldi, che sono veramente valide, tipo il classico SCAR, l'honey badger, quella roba lì funziona bene, capoia che si è mastrinato, sto ceffo BMW Power, e niente rega, qua venite a farvi il mazzo qua sopra, perché tanto, Roblox lo scaricate gratis, il gioco si chiama Goon Fight Arena, l'avete visto all'inizio, lo aggiorano ogni settimana, quindi, ah caboia che strinato, e niente, fate il culo alla gente, ai cinni poi, perché qua si è fatto gente di nove anni, guarda guarda guarda, jump around, vieni qua, che ti faccio il mazzo, poi granata a caso, granata a caso, radarino tattico, lancia granny, lancia granny, boom, foto, boom, dove sei andato, no, c'era un schifo di vita, dai dai dai, ah bastardo, ma lui, guarda di su che viene la gente, no, se no, l'ho strinato con la granata, l'ho venuta a prendere col fucile, da caccia al bastardo, vieni qua, vieni qua, guarda, dove è andato, bomba, bomba, vai dai, così, oh, abbiamo delle granate, baff, rega, cioè, ho sparato dappertutto, tranne che è torsato a lui, vaffa cura, beh, lì, 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 rega, lì, foto, ricordo, quella lì, roba da calendario, ho fatto una di quelle foto, che se la ricordano, questi slogan fuori, fa un po', no, ancora lì, dai che ti vengono a prendere a casa, no, ma ha preso lui a casa, dai, dai, due minuti, rega, due minuti, mettimi il lancio, grani, dai, vieni qua, dai, esci da lì, no, era dei miei, oh, boom, boom, oh Dio, dobbiamo sparare, dai, ricarica, ah, finite anche i colpi, ve lo dico, quindi l'arma secondaria è abbastanza importante da avere, avete tot colpi, se vedi, adesso c'ho la mia faccia, lì di fianco alla mia faccia, finito quelli, avete finito i caricatori, a volte quando uccidete la gente, ci sono degli ammo box giù, per terra, che potete prendere, e quelli vi, dai che sto per morire, granate prima di schiattare, c'è sempre il fesso che ci cade, yeah, allora, ehm, raccattate gli ammo box, quando estrenate qualcuno, se c'avete tempo, se riuscite, totra, ve ne tiro lì, vi faccio saltare per aria anche la nonna, brutti figli della marda, e dove siete? segnalameli, c'è una sorpresa sto qua, beh, mi volevi venire a prendere, taccia lo scudo, ehm, spam camping, proprio così, che passione, guarda, guarda con gli streamicini, dai dai dai, ma andate a scuola, di che cazzo volete fare, vai, vieni, figli della merda, totte, 38 secondi, adesso vi faccio la fe, tot, no, dai 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 dai, totto, ah, questo è la mo box, ecco, lo volevo prendere, avevamo fatto il cuore, l'ha strinato, ah, 17 secondi, rega, vai, comunque, se prendete il radar, vi dico dove sono, e poi gli tirate le granate addosso, ah, l'ha strinato, è così, questo è il gioco, rega, 3 secondi, via che si vola, finita la partita, sono primo, ok, ho vinto, il, questo, il, il free spin, vedete i primi tre posti, avete free spin, 50 mila di cash, e 10 minuti di ricaricamento veloce, allora, mappe frostbite, è una delle più belle, adesso noi non ci giochiamo, perché vi faccio vedere, come è lo spin, un po' il menu delle armi, poi dopo chiudiamo, allora, il free spin è questo, ne avete uno al giorno, in 24 ore, più lo potete vincere, vi possono dare il vostro prestigio superiore, oppure vi danno, della roba, speciale, vediamo un po' come va, per due cash, bello, avete più, più, per due cash, fast, la roba lì, ve la danno spesso, mentre invece, potete avere, se no, cose più rare, come queste qua, le armi speciali, il mission nucleare, o il prestigio, armi principali, ne avete una valanga, scegliete quelle che vi piacciono, quelle a pagamento, come ho detto, non fa la differenza, quindi che le prendete, non cambia un cazzo, le pistole, le armi secondarie, io ho preso questo, non l'ho peggiorata, vabbè, e i power up, i power up costano un sacco di soldi, ma vedete, il radar, il drone che vi cerca, e vi scoppia addosso, quindi fa sempre una kill, quasi, a volte scoppia contro un muro, force field, che è resistente ai colpi, ma non alle armi esplosive, la mitraglietta, il lancio a granate, minigun, questo è forte, avete una roba come 300 colpi, una volta finite, finito il power up, l'orbital laser, che praticamente, come avete visto, spara, no, non l'avete visto, però spara il laser dal cielo, e il missile nucleare, però dovete fare 100 kill, ognuno si sblocca durante la partita, ha un numero di kill predeterminato, e niente rega, questo è il gioco, ve lo volevo far vedere, spero, vi sia piaciuto il video, se volete più video così, fatemelo sapere, perché ho altri giochi belli su, come si dice, su Roblox, e niente, bella, buona giornata, bro! Ciao!